Ciao ragazzi, oggi facciamo una nuova challenge, la Bring Sally Up Challenge con la canzone Flower di Movi che in tanti box anche di crossfit la usano per il riscaldamento. Oggi la facciamo con le trazioni, ok? Quindi Bring Sally Up si va su, Bring Sally Down si va giù. La canzone dura più di tre minuti, è molto difficile finirla, arrivarci in fondo. Vediamo chi fa più ripetizioni. Perché ho visto questo video su YouTube che l'ha fatto un sergente dei Marine americani insieme a tutto il suo plotone, quindi mi sono messo anche in tenuta della vecchia naia. Allora taglio diverse persone, Davide Bombardi, Alberto Benigni, Fra Bilotta, poi i ragazzi del Fulcrum Team, Daniele e Ale, e poi alcuni ragazzi del box di crossfit Sassuolo. Il coach Ale, Teo che lo farà con gli anelli perché non so se la sbarra, Simo Pifferi e Federico, ok? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.